Amici di Jutelandia, missione compiuta, vi sto prendendo un ottimo espresso qui proprio a fianco dell'edificio dell'immigration point di Phuket, sono venuto a chiedere, ho ottenuto in modo molto semplice, adesso vi spiego i vari passaggi, un'estensione del Voa, il Viso d'arrival è quello che vi consente, atterrando in Thailandia, di rimanere 30 giorni, dopodiché o uscite oppure potete richiedere un'estensione di ulteriori 30 giorni, ho preferito fare così questa volta, la sigla. Eccomi qua il breve video che avete appena visto, era per farvi vedere un po' quella che è la sala d'attesa, non ho potuto fare grandi riprese, lo per farvi un'idea della gente che c'era e della sala d'attesa. Ecco guardate qui dove ci sono queste persone fuori, proprio qua sotto è qui che potete venire a rinnovare, vedete là vicino a questa macchina bianca, potete venire a rinnovare il vostro Voa, il Visa on Arrival, questo è il parcheggio e questo è il Phuket Immigration Point, l'edificio nel penso insieme. Phuket Immigration Point, io sono venuto qui, stavo a Kata, sono venuto a quello di Phuket Town, a margine della città, ma ce n'è uno anche a Patong, ho preso in taxi questa mattina intorno alle 8 e mezzo, ho speso nemmeno 400 baht, alle 9 ero qua da Kata e alle 11 avevo già in mano il mio passaporto con l'estensione ottenuta, ma quali sono i documenti che dovete presentare per ottenere questa estensione? Allora dovete innanzitutto presentarvi con il vostro passaporto, fatevi una fototessera, è necessario portare una fototessera e tanto che ci siete fate una fotocopia della pagina del vostro passaporto dove sono riportati i vostri dati anagrafici e una fotocopia della pagina dove vi è stato a posto quando siete entrati il VOA, il Visa on Arrival. Poi entrate all'edificio, nell'edificio vi consegneranno un modulino, mi sembra che si chiama il T7, che dovrete compilare, riportate i vostri dati anagrafici, dati del passaporto, un indirizzo di non residenza, insomma dove state qui a Phuket o in Thailandia, io ho semplicemente indicato l'indirizzo della guest house dove mi trovo in questo momento, firmate, poi consegnate i documenti, vi danno un numerino e vi mettete lì in attesa. Quando vi chiamano riconsegnate i documenti che hanno precedentemente controllato, pagate 1900 baht rigorosamente in contanti e tornate a sedervi ad aspettare che vi chiamino. Vi chiameranno indicando il vostro nome e cognome al microfono e la nazionalità, la vostra nazionalità e a questo punto vi ridaranno il vostro passaporto con l'estensione. Adesso vi faccio vedere come si presenta. Eccolo qua il mio timbro che dice che dovrò uscire dall'Atalandia il 2 di marzo. Il precedente VOA mi scadeva il primo di febbraio e quindi con questo posso stare altri 30 giorni fino al 2 di marzo. Se vi siete scordati di fare la fototessera o le fotocopie, come vi ho detto, delle pagine del vostro passaporto non vi preoccupate perché negli intorni di qualsiasi immigration point c'è sempre un punto dove potete fare le fotocopie, guardate laggiù le fotocopie o delle fototessere e io ho fatto così questa mattina. Bene carissimi amici di Jutelandia, per questo breve video è tutto. Avevo già dedicato un video sull'estensione del VOA ma quella volta lo avevo girato all'ufficio governativo di Bangkok dove si va appunto a richiedere queste estensioni. Questa volta volevo farvi vedere la stessa procedura come si è svolta invece qui a Phuket. Complessivamente da quando sono arrivato a quando ho ritirato il mio passaporto con l'estensione e il timbro ci ho impiegato circa due ore, quindi anche accettabile come tempo di attesa nonostante insomma come avete visto nel video in apertura c'era anche abbastanza gente. Bene carissimi, voi continuate a seguirmi, il mio canale YouTube Jutelandia, comprate la mia guida Bangkok Riverside, la trovate su Amazon per qualsiasi informazione, resto a disposizione vi raccomando scrivete le vostre impressioni nei commenti. Ciao! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.